Vieni, Sancte Spiritus, et emite celitus, Lucis Tue radio, veni, Pater pauperum, veni, Dator munerum, Veni, Lumen Cordium, consolador optime, dulcis ospes animae, Dulce refriserium, in labore requies, in estutem peries, Infletus solatium, holus beatissima, reprecordis intima, Durum fidelium, sine tua nomine, niles in nomine, niles in noxium, Lava quodes sordidum, riga quodes taridum, Sana quodes saucium, flecte quodes trigidum, Fove quodes frigidum, rege quodes devium, Natu vis fidelibus, in te confidentibus, Sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne caudium, Amen, Alleluia. È lo studio della sequenza di Pentecoste Veni Sancte Spiritus, attribuita a Stefano Langton. Si trova a pagina 253 del libro graduale romano, Giovanni Vianini, studio del canto gregoriano, Solo studio, non esibizione, Scola Gregoriana Mediolanensis, Milano, Italia, novembre 2008. Ho utilizzato la tastiera per ricordarmi bene la melodia e l'intonazione degli intervalli. Non sempre sono riuscito a intonare bene gli intervalli. Con lo studio la perfezione si può quasi raggiungere. Salve e buon studio.